Nella sede del centro ciechi San Rafael di Bolzano si è tenuta l'assemblea annuale della sezione provinciale dell'Unione italiana dei ciechi ipovedenti. La sezione, come evidenziato nel corso dell'incontro, ha censito e assiste circa 1200 minorati della vista, dei quali circa 240 sono ciechi assoluti, 560 sono ciechi parziali e 400 sono ipovedenti. L'Unione si è impegnata nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai bisogni e alle difficoltà riscontrate dalla categoria nella vita di tutti i giorni, come ci ha spiegato al microfono il presidente Josef Stocca. I problemi che abbiamo da risolvere sono sempre le barriere architettoniche sia nella città di Bolzano, i percorsi tattili, sia nelle piazze principali dove per trovare gli autobus, le fermate degli autobus, poi il traversamento delle piazze, per esempio la piazza stazione a Bolzano, è molto complicato, lì ci vorrebbe senz'altro un percorso tattile. Il prossimo obiettivo dell'Unione sarà quello di riuscire ad ottenere, dopo aver ottenuto quello di Bolzano, l'installazione dell'annuncio di fermata negli autobus di linea delle altre città altoatesine, nonché in quelle extraurbane. Grazie a tutti.